Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale è dedicata alle festività del Natale. I gelesi da noi intervistati si augurano di trovare sotto l'albero lavoro e pace. Vediamo. Le mancano poche ore al Natale, cosa le piacerebbe trovare sotto l'albero? Una città diversa, una città che non viva una situazione di difficoltà così come è Gela oggi. Una città in cui le attività economiche riprendano, in cui i tanti disoccupati, tante famiglie in difficoltà oggi possano ritrovare il lavoro e possono ritrovare la dignità. Questo credo sia la cosa più importante che mi auguro di trovare sotto l'albero di Natale. A me piacerebbe trovare sotto l'albero di Natale più lavoro per la gente perché mi rendo conto che effettivamente qui a Gela c'è parecchia gente che passeggia perché non ha lavoro. Io vengo da lassù perché sto lavorando al nord e mi rendo conto che al nord tutta questa gente che passeggia non la trovi e qui a Gela passeggia parecchia gente. Non per causa loro ma per causa dell'amministrazione, di chi gestisce le attività economiche a Gela. Cosa mi piace far trovare? Pace e serenità, solo quello. Un po' di lavoro per il popolo che sta soffrendo e un po' di serenità per la gente in generale. Mi hanno regalato un albero pieno di soldi, meglio di quello no, la serenità della mia famiglia, questo mi basta. Tanta pace, tanta sicurezza e una buona sanità, almeno quello che desiderano maggiormente i gelesi e i siciliani tutti. Solo un po' di serenità e salute per tutti questo, poi alla fin fine il resto passa e non ha lo stesso valore che può avere la serenità in una casa, insomma è questo, anche per tutti nella città. E la festa più sentita dell'anno sarà trascorsa dai gelesi come da tradizione in famiglia tra gli affetti più cari. Sentiamo. Come trascorrerete il Natale? A casa Giuseppe, in famiglia e dopo lavorare. Sicuramente in famiglia, sia il Natale che il Capodanno. Con i tempi che corrono in questo momento a livello economico, quindi penso che in famiglia sia la cosa più da avere. In famiglia con le persone più intime. Ma si mangerà poco o si mangerà tanto? Ma vorrei mangiare poco, ma purtroppo si riesce a mangiare sempre più di quello che si vuole. La dieta comincerà il 27? Che ci prova un po' di anni personalmente, però auguriamoci dal 2 in poi magari, di gennaio. In famiglia. Davanti ad una tavola bandita. Una tavola bandita, con gli ospiti, con tutti i figli dei miei nipoti. In famiglia. Mezzo ai gelesi che mi vogliono bene, per fortuna. Non tutti però, ma quasi tutti. Con figli, una sorella, ecco in famiglia. D'altronde è una festa della famiglia, io penso. E cosa le piacerebbe che le facessero come regalo? Ma serenità più che altro, ecco, un momento di serenità. Diciamo che lo trascorreremo in famiglia, in casa. In famiglia, a casa. Perché stando comunque tutto l'anno fuori, vogliamo stare con la famiglia, con gli affetti. Anche per te? Sì, sì, perché io lavoro fuori, insegno a Brescia, quindi di conseguenza è natata in famiglia. Come al solito in famiglia. E qual è l'augurio più bello che può fare un artigiano per la propria città? Speriamo che l'anno prossimo sia un anno migliore. Il comandante del porto di Gela, Pietro Carosia, ha emesso un'ordinanza di parziale interdizione del piazzale di Testata Pontile nel porto isola della raffineria Eni, la cui struttura, un controllo della capitaneria e dei vigili del fuoco di Caltanissetta, sarebbe risultato in pericoloso stato di degrado. Lo scalo marittimo a supporto del petrolchimico costruito negli anni 60 di proprietà della regione siciliana e gestito da Leni è composto da un pontile di 2.800 metri per il traffico dei prodotti solidi, poi adeguato anche ai liquidi e da una diga foranea di 3.000 metri che fa da barriera trasversale sulla quale si trovano i punti di carico e scarico per gli idrocarburi liquidi. Il provvedimento riguarda anche un pontiletto a 1.200 metri dalla riva destinato all'approdo di navi cisterne e gasiere di piccola stazza. L'ordinanza dispone la rimozione delle tubazioni e delle passerelle pericolanti se logore non adeguatamente ancorate alla struttura fissa, vieta l'accesso agli imbarcaderi di Levante e di Ponente della testata pontile, cioè le piazzole a pelo d'acqua e consente le operazioni di carico e scarico, ma con limiti e obblighi come il potenziamento del personale antincendio e di vigilanza durante le operazioni di carico e scarico. Torniamo a parlare del Santo Natale, il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. Si augura che si possa dare un contributo notevole ai poveri della città, purtroppo sempre più numerosi. Sentiamo. Vorrei che il Signore incontrasse con la sua benedizione ciascuno dei gelesi, ogni singolo abitante, perché la benedizione del Signore possa anzitutto elargire in loro un po' di pace nel cuore, in questa situazione così drammatica di crisi, di scoramento, che davvero sta anche abbattendo tutti. Però nello stesso tempo, e questo io lo credo fermamente, che ci dia creatività, dia creatività agli imprenditori, dia creatività ai politici, dia forza e creatività ai nostri lavoratori. Poi vorrei ancora raggiungere con questi miei auguri poveri. Quanti poveri. La nostra piccola casa della misericordia è un piccolo segno di questa apertura verso di loro. Perché quanti possono, dei nostri fratelli e sorelle credenti, al di là del fatto che siano cattolici o meno, ma quello che è importante è che dopo aver incontrato il Signore si incontri. Qualcuno che davvero ha bisogno lo si accolga, perché quanti accogliamo abbiamo davvero accolto il Signore, se costoro sono i poveri, perché privilegiati i amici del Signore. E il sindaco di Gela, Domenico Messinese, sottolinea che l'amministrazione sta facendo il possibile per alleviare i vari problemi che si registrano in città. Vediamo. Cari concittadini, ho quest'anno il piacere di rinnovare gli auguri per le sante feste durante il periodo natalizio. Abbiamo iniziato un percorso oltre un anno fa che sta dando i frutti. In quest'anno trascorso abbiamo affrontato problematiche che per decenni sono state frutto di discussioni, come l'acqua, dove la nostra amministrazione insieme a voi, andando a raccogliere quelle che erano le criticità, sta finalmente affrontando una a una e lentamente le stiamo superando. Dopo anni di immobilismo, l'amministrazione in modo forte ha messo davanti le esigenze di tutti i cittadini di Gela. Stiamo continuando a gestire e a modificare quel protocollo d'intesa che abbiamo ereditato, andando a migliorare con il dialogo le parti dove è possibile intervenire, garantendo una maggiore occupazione e accelerazione sui cantieri. davanti a noi si apre adesso un'altra grande possibilità rappresentato per il Patto per il Sud, dove finalmente il nostro territorio può avere una serie di risorse che consentiranno di dare delle risposte a delle zone che per molto tempo sono state trascurate, come via Martinica, come la zona al nord del museo, come via Recanate e tante altre zone che da anni aspettano interventi di urbanizzazione primaria. Oltre a questo stiamo operando in tanti, tanti fronti. Le cose che erano messe da parte, accantonate e dimenticate erano diverse. Magari vi erano molti interventi immediati o che davano quelle risposte abbastanza visibili, ma che dimenticavano quegli angoli importanti della nostra città che per troppo tempo sono stati trascurati. L'intenzione di questa amministrazione è continuare con lo stesso passo, con la stessa intensità, con la stessa costanza e con la stessa testardaggine. Sicuro che le lamentele che qualcuno dice vengono dai cittadini in realtà sono delle richieste ben chiare e molte di queste richieste sono fondamentali. Ci rendiamo conto che non è possibile fare tutto immediatamente, però ci rendiamo conto che tutto quanto per poter essere fatto bisogna iniziarlo. E questo noi lo stiamo facendo con l'aiuto di tutti. Quindi a nome del Consiglio Comunale, di tutta la Giunta e di me in prima persona, auguro a tutti un sereno Natale e soprattutto un 2017 che ci possa consentire di avere una speranza per un futuro migliore con la certezza che tutti insieme siamo in grado di farlo. Scambio di auguri e doni alla Casa di Riposo Antonietta Aldisio di Gele al centro di Urno Disabili, gestito dalla Cooperativa Azione Sociale. Ad augurare un sereno Natale e a portare alcuni regali sono stati i componenti della sesta commissione consigliare composta da Luigi Di Dio, Totò Sammito, Crocifisso Napolitano e Sara Bonura. Abbiamo voluto, ha detto il Presidente Di Dio, come commissione augurarci il sereno Natale con un occhio alle fasce più deboli della città finché ci possa servire da stimolo per fare meglio. Torna il presepe vivente allestito dall'Associazione Smuff Sport, Music, Art e Folclore presieduta da Gaetano Davide Arizzi. Appuntamento domani, il 26 e il 27 dicembre, il 5 e il 6 gennaio nel quartiere Canalazzo, dalle 19 a mezzanotte. E presso il Dipartimento Salute Mentale di Gele, in via Madonna del Rosario numero 8 diretto da Franco Lauria, il personale in servizio ha allestito un presepe per ricordare la natività. Il presepe può essere visitato da tutti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 nei giorni feriali e il sabato dalle 10 alle 13. Varie persone a Gela stanno raccogliendo soldi per la realizzazione della tradizionale cena di San Giuseppe prevista a marzo senza essere stati autorizzati. Lo dice Dollino di Dio, rettore della chiesa di Sant'Agostino in Gela dopo aver ricevuto numerose segnalazioni. Dollino di Dio ricorda che sono autorizzati solo ed esclusivamente coloro che si sono registrati e ai quali è stato rilasciato il permesso. Invita dunque a dubitare e a segnalare coloro che abusivamente raccolgono soldi. Nella lettera che accompagna il pass, il sacerdote ricorda che la tradizione vuole che dopo il Santo Natale si inizi e che le due finalità della cena di San Giuseppe sono il ringraziamento al Signore per una grazia ricevuta che si sta aspettando e l'attenzione ai poveri. Si invitano coloro che hanno intenzione di allestire la tavolata di iscriversi presso la chiesa di Sant'Agostino e di mantenere la sobrietà della cena senza sfarzo o folclore. Ci fermiamo. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale. La linea va alla regia per la pubblicità. Torniamo tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Da ieri la zona traffico limitato nel centro storico di Gela segue nuovi orari limitatamente al venerdì, sabato e domenica e le prossime settimane fino al 26 marzo. Le disposizioni vigeranno anche nei giorni festivi. In corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Marconi e via Trieste la circolazione veicolare sarà interdetta dalle 18 all'1 del giorno successivo. Da lunedì al giovedì invece permangono le fasce orarie che vanno dalle 18 alle 21. Ecco qua arrivati! In quartiere arabo, Calat Nisa, arabo, Calat Niseta, arrivati! Ma com'hai fatto? Di cova? Ah, tu hai seguito la stella cometa, eh! Allora hai seguito la bussola? Eh, no, 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 no! Seguire GPS, Facebook, WhatsApp! Oh, parlare arabo, parlare italiano, eh! Dai, dai, facciamo selfie, facciamo selfie! Aspetta, aspetta, ma vieni! Oh, ma io l'ho detto sempre, eh! Da quando siamo partiti che questo è un riso... Beh, bravo, grazie! No, no! Ma è, guarda! Una risorsa! No, ma mio... Vabbè, non andate! No, problema! Altro cellulare! Ah, quello serve! Fare il video! Guarda il telefonino, fermi! Ma dove? Fermi! Guarda il telefonino fuori! Ma avete fatto fretta! Ma avete fatto fretta! Qua stanno lavorando! Vabbè! Vabbè! Il presepe del quartiere Angeli a Caltanissetta. Tre video, trailerità e gag dei tre interpreti che stanno spopolando sulla rete per annunciare l'ottava edizione del presepe vivente nell'antico quartiere arabo. Così l'associazione culturale Anzichitanza ha voluto contribuire a valorizzare l'iniziativa portata avanti in questi anni dall'associazione Betlemma e gli Angeli e dalla parrocchia di San Domenico. L'idea dello spot è nata per far sì che la pubblicità del presepe vivente arrivasse anche ad altre fasce che magari non sono interessate, ma non tanto perché non sono interessate al presepe, perché magari non vedrebbero lo spot classico. E infatti abbiamo notato che molte persone hanno detto, ma come c'è il presepe? Ah, fate il presepe quest'anno! No, esiste già da otto anni, quindi è stato un po' provocatorio. Noi ci siamo divertiti, ci saranno i re magiche, chissà chi saranno questi re magiche. Quindi siamo sempre contenti di appoggiare le cose belle di Cautanissetta con i fatti. L'idea è apprezzabile il fatto che è la stessa gente del quartiere che collabora e lavora in prima persona per realizzare questa manifestazione. Inizia il 24 notte alla chiesa San Domenico, si continua il 26, 27 e 5 gennaio dalle 18 alle 21 e 30. Il 6 gennaio arrivano i re maggi e la domanda è quest'anno chi saranno i re maggi? Un'altra bellissima sorpresa è quello che vedrete proprio all'interno del presepe, all'inaugurazione, quindi il giorno 26, ma non possiamo svelarvi nulla. Un'occasione per riscoprire tra le strette vie e le abitazioni del rione arabo la maggia della natività e gli antichi mestieri. Un presepe che ogni anno rivive grazie alla collaborazione e la partecipazione degli abitanti del quartiere. Sul quartiere tutti i figuranti stanno collaborando a 360 gradi, sono tutti imbegnati il pomeriggio a sistemare le casette, le stradine, a ripulire un po' il tutto. Quindi ci sono state anche delle ragazze che sono messe a cucire proprio per noi, hanno creato alcuni vestiti che verranno indossati per questa manifestazione. La Conf Commercio Gela sta avviando i corsi sulla sicurezza. Si tratta del corso RSPP, responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore, rischio basso, e del primo soccorso di 12 ore, rischio basso e medio. Gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Conf Commercio Ascom Gela in via Cicerone numero 10410, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per informazioni c'è anche un numero di telefono 0933 93 97 18. Adesso parliamo della festa di Natale degli atleti dell'Associazione Canguro Basket di Gela. Vediamo. Festa di Natale con gli atleti dell'Associazione Sportiva Direttantistica Canguro Basket. In campo anche le famiglie. I genitori degli atleti si sono cimentati in gare di tiro e di palleggio e poi hanno gareggiato con i loro figli. Entusiasmo alle stelle e l'augurio di ripetere questi momenti. L'iniziativa di ieri denominata le famiglie in gioco che si svolta nella palestra dell'Istituto Comprensivo Don Milani diretto da Rocco Encardona è stata preceduta da una tombolata e dalla condivisione del progetto. Un progetto dalla parte dei bambini per renderli competitivi nella vita e nello sport. Tutto sotto la regia del presidente Patrick Giallizzo. Oggi è un giorno di festa, siamo stati insieme alle famiglie e quindi i bambini siano divertiti insieme ai propri genitori. Auguriamo a tutti un buon anno, un felice Natale, sereno e speriamo che l'anno nuovo ci riservi tante sorprese belle per tutti, soprattutto per i nostri bambini. Il responsabile del settore mini basket e componente dello staff mini basket Sicilia, Croci, la cognata. Il canguro SD è questo, cioè vivere insieme il gruppo, vivere insieme il gruppo insieme ai bambini, insieme alle famiglie, divertirsi. Il mini basket deve essere obbligatoriamente questo, un nuovo modello di fare mini basket che permette ai bambini di potersi divertire, dove le famiglie diventano corresponsabili di questo progetto di crescita. Gli istruttori ci siamo, l'associazione c'è, le famiglie ci sono, i bambini ci sono, cercheremo di creare un bel modello che possa essere da esempio di vita e di crescita per i nostri piccoli e grandi cangurini. Auguriamo un buon anno, un felice anno nuovo a tutti, tutta la città e sperando che il 2017 sia profigo per tutti, per quello che si chiede e si vuole nella vita. C'è l'informazione cinematografica in proiezione alle 17.30 al Cineteatro Antidoto, al cartone animato Rock Dog. Alle 19.30 e alle 21.30 sarà invece proiettato il film La cena di Natale con Riccardo Scamarcio. Con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. A tutti voi l'augurio di un sereno Natale. Arrivederci. Grazie a tutti.